La undecima Olimpiade moderna, lo svolgimento, e giornalmente si assiste all'imponente aspetto che presentano le tribune dello stadio affollatissime di spettatori. Nella gara maschile del lancio del giavellotto si classifica primo il tedesco Stock, con metri 71 e 84 si classificarono due finlandesi, gli atleti Nikkanen e Toivonen. Nella gara di Polo, la squadra argentina batte quella inglese col punteggio di 11 a 0. Gara maschi! Glere! Gara maschi! Gara maschi! Nella corsa 1500 metri piani, il nostro Beccali, minorato da un incidente di corsa, è arrivato terzo, preceduto dal nuova zelandese Lavlov, che ha battuto il primato mondiale, e dal nordamericano Königheim. Nel salto triplo è stato battuto altro primato mondiale, dal giapponese Taima, con metri sedici esatti. Secondo si è classificato un altro giapponese, Harada, con metri quindici e settantasei centimetri, e terzo l'australiano Mickal, con metri quindici e cinquanta centimetri. Nella corsa femminile 80 metri ostacoli, la nostra rappresentante Ondina Valla, che già detiene il primato olimpionico, ha fatto sventolare sul più alto pennone dello stadio il tricolore. Nella corsa